mondiale under 23 in italia la federazione italiana canottaggio invita quattro vecchie glorie del remo azzurro in un ideale collegamento con i giovani che stanno crescendo questo è un bel segnale da parte della federazione bellissimo segnale proprio non ce l'aspettavamo e mentre invece proprio fra l'altro i morioli siamo i due più anziani ancora medagliatori vita insomma è stato un bel invito questo ecco trovo per conoscere anche poi giovani che sono quelli che devono fare fare le gare oggi devono fare portare avanti canottaggio ecco noi oramai ci limitiamo fare un po di presenza romano sgates dicevamo l'organizzazione di questi campionati del mondo si buona spero almeno io cioè io quello che ho visto è tutto sia la campo che è tutto opposto insomma diciamo dovrebbe andare tutto bene divo stefanoni la differenza con i vostri tempi cosa la vede maggiormente ora come ora maggiormente la differenza è che oggi vedo degli impianti stupendi dalla partecipazione numerosa e spero anche che sia così anche nelle finali speriamo nei risultati e speriamo anche nei risultati 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 a riono se se dietro c'è qua c'è dietro speriamo che risultati questa è storia e cultura del canottaggio quindi hanno ispirato tutte le nuove generazioni noi veniamo dal dall'entusiasmo delle loro gesta sicuramente io un po meno ma quelli che ha remato vent'anni prima di me sicuramente si sono ispirati a loro io so la storia che hanno fatto diciamo è la cultura effettivamente quella della moto guzzi che hanno trasmesso a tutti quanti ecco per sentito dire per racconto poi andare dalle pagine dei libri e da qualche repertorio sono riuscito anch'io a vedere qualcosa però penso che quelli che hanno iniziato vent'anni prima di me loro sono stati veramente i loro idoli